Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gente magnifica, gente, chi tante e chi niente, non sa ma quant'ora. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente, non parla e si spara. Gente magnifica. Forza, 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 forza. Forza, forza, forza. Pronti? Veloci, dai, dai, dai. Forza, 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 veloci, 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 veloci. Forza, forza. Forza, forza. Forza, forza, forza. Per intenderci e capire rapidamente. Se si accende la luce rossa... Premi un attimo. Bello che si vede. Alto, tocca. Ancora doppio. Quattro mani, pronti. A voi. Ma la lucina è sopra l'altra. C'è il cassonello. C'è il rosso. Alta. Ancora lula. Ancora lula. рь